Il sole sul tetto dei palazzi in costruzione, sole che batte sul campo di pallone e terra e polvere che tira vento e poi magari piove. Nino cammina che sembra un uomo con le scarpette di gomma dura dodici anni e il cuore pieno di paura. Ma Nino non aver paura di sbagliare un calcio di rigore non è mica da questi particolari che si giudica un giocatore. Un giocatore lo vedi dal coraggio, dall'altruismo, dalla fantasia. E chissà quanti ne hai visti e quanti ne vedrai di giocatori tristi che non hanno vinto mai ed hanno appeso le scarpe a qualche tipo di muro e adesso ridono dentro il bar. E sono innamorati da dieci anni con una donna che non hanno amato mai chissà quanti ne hai veduti chissà quanti ne vedrai. Nino capì fin dal primo momento ballenatore sembrava contento e allora miso il cuore dentro alle scarpe e corse più veloce del vento prese un pallone che sembrava stregato accanto al piede rimaneva incollato e entrò nell'aria e tirò senza guardare ed il portiere lo lasciò passare. Ma nino non aver paura di sbagliare il calcio di rigore non è certo da questi particolari che si giudica un giocatore. Un giocatore lo vedi dal coraggio dall'altruismo dalla fantasia il ragazzo si farà anche se ha le spalle strette quest'altro anno giocherà con la maglia numero sette non aver paura di sbagliare. Grazie a tutti Grazie a tutti